Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati sul mio canale e bentrovati in questo nuovo video, un video haul di acquisti, diciamo alcune novità, almeno per me, che ho effettuato nell'ultimo mese, negli ultimi 20 giorni. Perdonatemi per questi capelli orrendi, ma devo fare la tinta, devo andare uno di questi giorni, perdonatemi. Veniamo al video. Come sapete io amo moltissimo i deodoranti della Borotalco, credo che siano quelli, almeno su di me, che hanno una tenuta migliore, ottimale, sia d'inverno che d'estate. Vi voglio mostrare questo nuovo prodotto della Borotalco, di cui è presente la scheda sul sito ufficiale della Borotalco, ma che io almeno da me non ho visto da Tigota, Ipersoap e nemmeno nei supermercati. Li ho trovati, questa variante l'ho provata su Ebay e ne ho prese quattro bombolette. Mi sembra di averle pagate circa 21 euro in tutto, quindi tipo non so fare il conto, perdonatemi. Sto parlando di questo, Borotalco Soft, con profumo di talco e fiori rosa, con talco e cristalli attivi. Questo promette senza alcol e 48 ore di protezione. Vi leggo dietro cosa scrive. Allora, offre una tripla protezione asciutta per sentirti sempre a tuo agio, previene il sudore, limitando nella formazione, assorbe il sudore quando si forma, neutralizza le molecole che compongono il sudore, un'impusione delicata e avvolgente di fiori rosa e mughetto su fondo talcato. Chiaramente è un deodorante destinato a un pubblico femminile, un po' come l'altra versione rosa chiaro, cipriata. Io l'ho già utilizzato una volta, ha un profumo floreale molto lieve, che quasi non si sente nel momento in cui lo applicate, e come protezione, appunto, lo dice anche qui, ti lascia la pelle asciutta dopo una giornata, diciamo, dopo alcune ore. qui non me ne intendo molto di inci, ma vedo che è presente lo zinco cloride e anche la glicerina. Penso che lo zinco abbia un'azione antibatterica, perché dice che previene il sudore, limitando nella formazione, che lo assorbe quando si forma e neutralizza anche le molecole che compongono il sudore. Cioè, tutte queste caratteristiche sono, secondo me, chiaramente state, è stato formulato in questo modo, perché ci avviciniamo al periodo caldo. Io l'ho pagato 4 euro, più o meno, ma, perché l'ho preso su eBay, ma credo che a un prezzo standard si avvicinerà sui 2,80 euro. E quindi, almeno per adesso, in inverno, tiene la sudorazione. In estate non so quando ci sarà maggiore caldo. Poi passiamo ad un altro tipo di prodotto. Io mi tornisco di integratori, soprattutto per il mio padre, sul sito Farmacosmo, una farmacia online, una parafarmacia online, che vende sia farmaci generici, sia integratori alimenti biologici, dispositivi elettromedicali, eccetera. E più o meno un mese fa, e vendono anche bagnoschiuma, sciampi, diodoranti, detergenti intimi, saponi, insomma quant'altro, dentifrici, delle marche che si trovano nei, delle classiche marche, diciamo, da supermercato, quindi Colgate, o Colgate, come si voglia, la Dove, Neutro Roberts, Nivea. E hanno anche un piccolo assortimento di cosmetici della Glenova, marca che io vedevo più che altro nei negozi, negli store cinesi, o comunque in qualche discount, ecco. E ho preso questa, questo barattolino di crema protettiva, camomilla e aloe vera per pelli delicate. Qui dice 95% di ingredienti naturali senza paraffina, silicone e parabene, dermatologicamente testata, vegan ok, c'è il bollino vegan ok. e mi sembra di averla pagata al massimo 1,20 euro o forse addirittura 99 centesimi, comunque in ogni caso sotto l'euro e 50. Io l'ho presa perché in video non si vede molto ma ho la pelle del viso molto sensibile, soprattutto qui. E con gli sbalzi di temperatura, passando da quando esco al freddo a quando torno a casa, con il riscaldamento mi si irrita tutta la pelle, è una pelle reattiva. E l'inci è questo, vi leggo qualche componente. Acqua, cetari, l'alcol, olio di mandorle dolci, glicerina, isopropilma palmitate, poi c'è il burro di karité, appunto l'estratto di camomille, succo di aloe, eccetera. Sono 125 millilitri, no, 120, con un po' di 12 mesi e un prezzo minimo. Ce ne sono anche altre varianti della glenova di queste creme in barattolo così multiuso. Costano tutte meno di 2 euro, appunto, e quindi l'applicherò sul viso e ma anche sulle mani e vedremo com'è. Poi andiamo avanti. Qualche giorno, sì, qualche giorno fa, ormai una decina di giorni fa mi trovavo da Tigotà per comprare delle cose che mi servivano, ecco. Io non vado mai da Tigotà, come dire, a fare dei giri, a fare dei piccoli giri per vedere quello che hanno di novità, se non mi serve niente. Ci vado se mi serve qualcosa, mirata, dopo aver magari letto, visto qualche offerta sul volantino, appunto. E ho visto uno stand, un espositore, come dire, su tre livelli di cartone, dove ho visto un nuovo prodotto della Biolis Nature. E sto parlando di questi nuovi bagno doccia, shower gel, di questa linea Vegetal Pro. C'erano in tre fragranze, c'era questo al cocco, quello all'avena, mi sembra, e un terzo che ora io non ricordo. Appunto, è un bagno doccia ultra delicato, con 98% di ingredienti naturali con latte di cocco bio. La mia prima impressione è stata... ho notato che il packaging ricorda molto, non so se voi avete la stessa impressione, ricorda molto quello dei latti vegetali, il cartone, il brick dei latti vegetali, quindi latte di soia, di... di avena, di... latte di mandorla, eccetera. È un po' caro, perché... però fosse dovuto dal fatto che è un prodotto, appunto, con determinate caratteristiche, perché questi sono 500 ml, e l'ho pagato 3,99. Qui dice... avvolge il corpo di morbida schiuma lasciando la pelle fresca e particolarmente profumata. È adatto per un uso frequente per ogni tipo di pelle, più del 98% di acqua purificata e ingredienti di derivazione vegetale, 0% siliconi, parabelli, impetrolati, slas, e appunto è... non ci sono ingredienti stati suoni mali, prodotto col 100% di energia 20, yes vegan. È privo di tutte queste cose qui che non vi sto ogni volta a leggere, perché sappiamo la Biolis che tipo di azienda è. Sempre parlando di... anzi no. Passiamo a Lidl. Da Lidl ho trovato, diciamo, alcuni pezzi di una linea che avevo visto sponsorizzata, cioè sponsorizzata, che avevo visto su YouTube da altre YouTubers, ma che io al momento, e ora non ricordo quando fosse uscita, ma forse l'estate scorsa, col caldo, non avevo trovato niente. Forse da me non era arrivata. Ho trovato dei... io li chiamo dei pezzi, dei rimasugli della linea Aloe Fresh. Non ricordo i prezzi, comunque diciamo al massimo 4 euro. E ho preso quindi la crema da giorno, con il 97% degli ingredienti di origine naturale, inclusa l'acqua. Idratante e nutriente. E sono 50 ml di prodotto. E questo è l'inci, con 12 mesi di PAO. acqua, succo di aloe, glicerina, caprile, trigite, gliceride, cetari l'alcol e poi c'è l'alcol denaturato, che non capisco. Forse spero che sia un conservante. Spero di non mettermi in faccia qualcosa che mi possa far male. L'acqua di... acqua d'uva. Acqua di uva. Olio di girasole, olio di soia, vitamina E, tocoferologo, maxantana, eccetera. Quindi vedremo com'è. Si presenta nel suo... in un tubettino. E poi, mi sembra fossero le uniche due cose che ho trovato, forse mi sbaglio, comunque no. Ho preso il balsamo viso 3 in 1. E questo mi sembra che abbia un'inci migliore della... della crema, cioè non ha l'alcol denaturato perché ha acqua, succo di aloe, burro di carità e glicerina, caprile, trigite, erige, eccetera. E sono 150 ml di prodotto. Questo mi sembra di averlo pagato. Quanto l'ho pagato? Forse 4 euro? È sigillato, per fortuna. Ok. Io cercavo una buona maschera per il viso quando quel giorno ero lì, quindi penso che lo utilizzerò come impacco per il viso, perché forse come crema da giorno è un po' troppo. ero indecisa se prendere, perché ho un'offerta di bottega verde sull'applicazione di una maschera per il viso in tubetto al lampone mirtillo per pelli delicate a 3 euro 99, ma forse visto che ho già questo, evito di spendere altri soldi, giusto per... solo per il gusto di prenderli. Poi in farmacia ho preso... vedevo sempre questo cesto, questo cestone con questi doccia schiuma profumati, diciamo, questi gel doccia, anzi si chiamano gel doccia, della linea della farmacia, non saprei neanche dirvi... la mia farmacia si chiama farmacia Mantovanelli, ma diciamo che vengono prodotti dal laboratorio della farmacia, SRL, che ha sede a Quarto d'Altino in provincia di Venezia, quindi in Veneto, e ce n'erano in vari gusti, varie profumazioni, c'era quello in profumazione tipo oceanica, quello floreale, ora non ricordo, e io ho preso questi due, a 3,90 euro l'uno. Ho preso questo gel doccia spicy speziato, quindi c'è Roma Therapy, è un gel doccia per tutti i tipi di pelle, che deterge delicatamente formando una schiuma leggera e cremosa che dona una piacevole sensazione di benessere durante il bagno o la doccia, lasciando la pelle delicatamente profumata. È senza solvatti, testato al nickel, al cromo, senza glutine e senza parabeni. Il linci è abbastanza buono perché appunto ha l'acqua, non ha lo slas, ma ha come tensiattivi il disodio, un coco di glutamato, la coca mido propil betaina, la glicerina, profumo, propilene glicol, all'estratto di uva, il sodo in PCA, l'estratto di bosvelia e l'estratto di zenzero. Sono 200 millilitri con un po' di 12 mesi. Siccome il periodo freddo durerà ancora un po' non vedo l'ora di utilizzarli, metterli in uso. E poi ho preso l'altro, che mi ispirava un sacco, alla pera e cardamomo. Gli ingredienti sono gli stessi dell'altro, forse cambia qualche principio attivo. Anche questo testato al nickel eccetera, quindi vedremo come saranno. E tornando al Lidl, mi sono dimenticata di farvi vedere questo doccia crema della linea Mama Care, quindi per le donne in gravidanza o nel postparto, con olio di mandorle dolci biologico per tutti i tipi di pelle, certificato vegan, pagato sui 3 euro. Qui dice che grazie alla sua formidazione a base di sostanze di origine vegetali, deterge delicatamente senza seccare la pella. L'estratto di calendula bio e il complesso di oidri vegetali bio di mandorle, girasole, jojoba e oliva, attrinisce la pelle rendendola morbida e setosa. Consiglio per un risultato tremale sia di applicare l'olio corpo, sia in Mama Care. Ecco lì, ci sarebbe anche buono se non fosse che al terzo posto c'è l'alcol. Poi c'è la glicerina, l'olio di soia, la gomma axantana, l'acido olebulinico, poi c'è l'olio di oliva, olio di mandorle dolci, olio di jojoba e l'estratto di calendula. Sono 200 ml con un pao di 12 mesi. Sto cercando di andare rapida per non far venire il video troppo lungo e noioso. Passiamo a prodotti che sono già sul mercato ma che io perlomeno non ho mai provato. Sono stata a un ipermercato molto grande che si chiama Iperlando che da me dista circa credo una ventina di chilometri, quindi sono dovuta andare appositamente nella sezione cosmetici. In quanto avevo visto uno shampoo in un formato come dire maxi, in una maxi taglia che da Tigota non trovate, io vorrei trovare finalmente uno shampoo lisciante che mi consenta di non utilizzare la piastra. Sto parlando dello shampoo, ne ho presi due, ve ne mostro uno solo ovviamente, due identici. Questo della Gliss, della Schwarzkopf, questo nome impronunciabile, è uno shampoo appunto con un complesso lipidico più essenza di estratto di fiori asiatici, lisciatura facile, anti-crespo e effetto anti-umidità, capelli belli o difficili da lisciare. I tuoi capelli sono crespi indomabili, crespi sì, indomabili noi miei. Spesso questo è segnale di cuticole e capillari danneggiate, la superficie dei capelli è ruvida, irregolare richiede una soluzione lisciante. Asia Straight dona capelli visibilmente più lisci, effetto anti-crespo, anti-umidità, il 90% di ingredienti sono di origine naturale, inclusa l'acqua. Sono 370 millilitri, non so se abbinarci il suo balsamo di questa linea o qualche altro. Pagato, pagato, però sono quasi 400 ml, vi dico subito se lo trovo, 2,90 euro, 2,90 euro per 370 millilitri di prodotti e lì non è neanche poi così male perché c'è l'acqua, vabbè lo less, coca mililitro, poi il becaine, poi c'è un PEG, PEG7, gliceril cocoa, sodio cloride, olio di albicocca, olio di nocciolo di albicocca, cheratina idrolizzata che serve per lisciare, estratto di peonia, di sodio coca anfacetate, acido citrico, sodio benzolato e glicerina, poi c'è anche la biotina, vedo, insomma mi sembra un inciricco di sostanze utili ai capelli come la cheratina eccetera. Sempre in questo hipermercato per, vi dico subito, se lo trovo, per 1,20 euro, forse in un haul di qualche anno fa, fatto in estate mi sembra di qualche anno fa, ho, come si dice, ricomprato questo sapone mani della Drop Soap alla crema di menta, che è un qualcosa di, magari non tanto in inverno ma in estate, è qualcosa di strepitoso. Sono 500 millilitri di prodotto e un pao di otto mesi, strano, non ho mai visto un pao di otto mesi. E qui dice, formula a pH isoepidermico ricca di principiativi e non alimenti per minimizzare i rischi di irritazione e lasciare la pelle morbida e velutata. Una ricca miscela emozionale di fraganze e essenze naturali personalizza, arricchisce il putpourri degli ingredienti. Qui c'è l'inci e la piramide olfattiva, che è scritta in piccolissimo ma ora ve la leggo io. Le note di esse sono menta, piperita, crema e vaniglia. note di quale sono anice, foglie verdi, arancio e scorza di limone e le note di fondo sono muschio bianco, latte, note verdi e menta. è un prodotto made in Italy, pH 5,7 ed è prodotto da un'azienda che si chiama Eurodecos SRL che ha sede in Veneto, precisamente in provincia di Padova. Io vivo in Veneto in provincia di Padova, quindi un prodotto fatto dalle mie parti. poi dal cinese, sto per terminare, non manca molto, ho trovato questo doccia schiuma della Nivea che ho visto già tempo fa ma anche adesso sono piena di cose ma ho voluto aspettare, questo doccia schiuma della Nivea al cocco e olio di jojoba per pelle visibilmente più morbida con il profumo di cocco esotico per una sensazione di pelle idratata con selezionati ingredienti dell'originale Nivea creme, provitamine e oli nutrienti. lasciandoti una sensazione di morbidezza e intensa idratazione, il profumo sa di cocco, di quel cocco come dire un po' pralinato, anzi sa quasi di latte di mandorla da quanto è dolciastro, dolce. e l'ho pagato, sono 250 millilitri, e l'ho pagato 1,35 euro. e poi ho preso dei bagnodoccia DAV che è un marchio che io sto scoprendo personalmente almeno per quanto riguarda adesso e quindi ho trovato questo, ne ho presi due ve ne mostro uno, questo qui, calming, con la crema di pistacchio e magnola, magnoli, e questo è con detergenti di origine naturali, idratanti vegetali senza solfati. quindi ho preso questo al pistacchio e magnola che avevo usato tanti anni fa, alcuni anni fa avevo trovato il formato grande in un supermercato nella mia città, adesso c'è solo questo piccolo e tra l'altro solo dei cinesi, ne ho presi due. per, ora non ricordo, un euro e venti, sì un euro e venti, e poi ho preso due di questi piccoli relaxing al, non mi viene il termine, ha i petali di gelsomino e latte di cocco, rilassa e di equilibra con ingredienti indratanti di origine naturale, ne ho presi due di questi piccolini, pagati, pagati, non ricordo, perché questo piccolo l'avevo preso a quelli per mercato di cui vi parlavo. pagato, un po' caro per essere 250 euro, ma parliamo del DAV, 1,80 euro. e invece, sempre dal cinese quel giorno, ho trovato il formato grande dello stesso, che cambia un po' il packaging, ma queste ho le scritte in italiano e quelle in inglese. solo che questo qui ha ancora lo, no, anzi no, io questo, l'estate scorsa, se vi ricordate, avevo preso, diciamo, il dupe, la brutta coppia, perché era una brutta coppia, non aveva un grande profumo, e da Caddis, quello tutto blu, che è appunto un doccia crema del Caddis, con latte di cocco e gelsomino, che appunto anche come forma della bottiglia ricorda chiaramente il DAV, l'avevo pagato un euro e venti, però veramente non, come dire, non profumava come, almeno si dirlo dalla bottiglia, ecco, utilizzandolo, non profumava come io penso, che profumi questo, questa è tutta un'altra cosa, e questo grande della DAV, l'ho pagato un euro e novanta, un euro e novanta, e questo in giro lo vedo anche a più di due euro, quasi sui tre euro, bene ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, perdonatemi per i capelli terribles, provvederò, se il video vi è piaciuto lasciate un like, e se vi va iscrivetevi al canale, ecco, spero che possiate trovare in giro questo donante del laboratorio, perché a mio avviso, almeno finché non fa troppo caldo, è valido come tenuta, e vi segnalo di nuovo questi bagno doccia della Biolis Nature, della linea Natural, no, Vegetal Pro, 3,99 per mezzo litro, c'è anche all'avena e in altri due, no, in tre profumazioni, all'avena e un'altra profumazione, l'avena al cocco è un altro, peccato che della, peccato che all'idol della linea Alloy Fresh non abbia trovato il gel detergente Alloy che mi interessava, e mi sarebbe piaciuto provare anche la maschera in tessuto, ma non c'era purtroppo. Il mio non è un grande Lidl, quindi a volte le cose arrivano, diciamo che sono sempre arrivate tutte le edizioni limitate, tranne un po' questa, e pazienza. Ce ne sarebbe un altro a 10 chilometri, da casa mia, ma non vado apposta a controllare, perché non sempre ho tempo e voglia. Mi sono comunque portato a casa il balsamo 3 in 1 che utilizzerò come maschera. Bene ragazze, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se vi va iscrivetevi al canale, se avete provato appunto già questi prodotti della Line Alloy Fresh, del Lidl, fatemi sapere come vi trovate, con la crema giorno e con questa crema multiuso, io vi mando un bacio, un abbraccio, e se vi va commentate per scambiarci opinioni e consigli, e vi mando un abbraccio, ci vedremo in un prossimo video che credo sarà quello dei prodotti finiti, e prima di farlo vedrò di sistemarmi questi capelli, e alla prossima! Grazie!